Start, 2, 1, Mission, and Liftoff! Ciao a tutti e bentornati o benvenuti su Indie Gameplay Ita. Oggi un video molto particolare, il primo di due, dove parleremo dei giochi Bethesda ed in particolare di Starfield. Nello specifico in questo video vorrei fare con voi una piccolissima riflessione e poi nel video che pubblicherò tra qualche giorno andremo a vedere nello specifico Starfield in un modo un po' particolare e diverso da tutti gli altri che lo stanno mostrando in questi giorni. Ma dobbiamo andare con ordine. Aspettavo Starfield tanto, tantissimo, ma non è la prima volta che io fremo per un videogioco. Unendo i pezzi del puzzle, nella mia esperienza trentennale nel mondo dei videogiochi, posso arrivare ad una conclusione. Il mio hype è legato ad uno sviluppatore, Bethesda. Infatti tutto è cominciato nel 2004 quando Giochi per il mio computer regalò Morrowind con inclusa la sua traduzione in italiano. E al tempo io facevo la ronda nelle edicole ogni settimana, se non ogni mese, per vedere quali riviste erano più interessanti e quali giochi queste regalavano. E lo comprai. Il gioco sembrava uno dei giochi di ruolo più profondi che io avessi mai provato prima. Ma appunto anche la critica poi lo aveva acclamato così e mi aveva preso. Mi aveva preso anche tanto. Sebbene l'ambientazione non era tra le mie preferite, ma poi su questo mi sarei rifatto anni più tardi con altri giochi, insomma poi vedremo, aveva un sistema di dialoghi veramente incredibile con collegamenti ipertestuali, approfondimenti sui vari temi. Potevate parlare con tutti, con tutti avevate le stesse opzioni di dialogo e spesso qualcuno aggiungeva qualche particolare in più. Il viaggio rapido era un'utopia. Infatti si viaggiava con i Silt Strider, questi insettoni giganti che vi pagavate. Quello che lo guidava, insomma, c'era il caricamento e vi spostavate nelle varie zone. E si viaggiava così, imparavate poi i vari collegamenti per spostarvi rapidamente oppure camminavate come facevano, insomma, si faceva. Le classi erano tante, ma altrettanto numerose erano le personalizzazioni in termini di skill. Le città vi restavano in testa, Ivec, Balmora, insomma, c'erano tante città interessanti, così come anche i personaggi. E la mappa era un'isola vulcanica enorme e ogni angolino che vedevate ancora non sbloccato sulla mappa di gioco potenzialmente poteva nascondere ancora mille segreti. Calcolate che rimasi così appassionato dal gioco che stampai pure una copertina da incollare sia sul CD di giochi per il mio computer e sia sulla custodia, diciamo, del DVD stesso. Lo finì, lo comprai pure per l'Xbox, la primissima, la Crystal, dove riuscì pure a moddarlo lì, spolpandolo, divenne a capo di tutte le casate, anche del Tempio, insomma, c'era la casata del Tempio. Poi venne annunciato Oblivion, furono mesi d'attesa veramente tosti. Frequentavo le scuole superiori, osservavo ogni giorno il calendario, segnalando appunto quanto mancava a quel famoso venerdì 24 marzo 2006, quando andai a ritirare la mia Collector's Edition. Edizione con la mappa, la moneta imperiale, il CD della colonna sonora. Il gioco era stato in realtà semplificato per quanto riguarda il sistema di dialoghi, probabilmente per renderlo più fruibile alla nuova Xbox 360. Si potevano maneggiare gli oggetti, prenderli in mano e ruotarli. Quindi poi, vabbè, inutile dire che l'ambientazione era spettacolare ed era quanto io potessi desiderare. Potenziai la RAM del PC, modificai a mano gli lini del gioco in modo da poter avere un campo visivo maggiore e vedere più lontano. Mi perdevo nelle foreste e nelle praterie con l'erba che si muoveva. Lo riempì di mod per avere la mia casa in mezzo ai boschi e vivere il gioco come un mondo parallelo. E mi fa esce anche una semi-run senza fast travel, viaggiando solo a piedi o a cavallo. Poi, arrivò l'11 novembre 2011, cinque anni dopo, arrivo a Skyrim con un sistema di dialoghi simile a Oblivion, meglio rifinito, un'ambientazione più nordica, glaciale, bellissima anche questa. Mille misteri, luoghi ricchi di magari storia, arrivavate in un posto tutti morti e un documento vi avviava una quest e vi permetteva di chiarire cosa fosse successo. Mi feci il PC apposta per giocarlo al meglio e mi feci anche diverse run dove anche lì divenni il capo delle varie gilde in varie run, bellissima la gilda dei maghi nella città, tutta innevata in cima con la torre che potevate acquistare, insomma un sacco di cose. Negli anni giocarei anche ai Fallout, questo non vorrei dimenticarlo, ma la sua ambientazione risiede a metà tra le mie due preferite che sono il fantasy e la fantascienza. Poi è arrivato il turno di Starfield. Ci sono voluti anni, ma alla fine è arrivato. Allora, vi ho raccontato tutta questa storia per permettervi di comprendere meglio il ragionamento che sto per farvi. Come già detto, il gioco ve lo presento in un prossimo video. Lo proveremo come esperienza immersiva. Ma oggi voglio parlare del giocare ai videogiochi per divertirsi. Perché? Riguardo a Starfield ne ho sentite tante. Sia prima dell'uscita che dopo l'uscita. Sarà buggato. Non mi piacerà questo, non mi piace quello. Hanno annunciato quello ma non mi piace. Volevo l'animazione quando si sale sulla nave. Volevo attraverso da solo e non con caricamento. Volevo maggiori commerci interstellari. Volevo più sistemi. Volevo dei sistemi più pieni. No, sono troppo vuoti. I sistemi sono pieni di oggetti che si ripetono. Era meglio fare un sistema solo fatto bene. I nemici sono stupidi. Eccetera, eccetera, eccetera. Senza contare i gruppi italiani. Italiani non. Che sono pieni di domande. Flame, ipotesi. Come sarebbe potuto essere ogni feature del gioco. Ma la mia domanda è questa. E se per una volta provassimo a divertirci, il gioco è stato fatto per il giocatore. Chi se ne frega se il nostro compenium nell'animazione risulta fuori dall'ascensore quando parte l'animazione che parte l'ascensore insomma e sale e alla fine ricompare a fianco a noi. E chi se ne frega se il nemico si incastra, che poi tra l'altro anche a difficoltà difficile ci fa dire ti è e lo uccidiamo. E chi se ne frega se ci sono caricamenti per andare sui pianeti per andare sui pianeti e per decollarci poi e andare via. Ci sono altri giochi che fanno quello. Volete più commerci? C'è X4. Volete più pianeti dove atterrare? C'è No Man's Sky. Dovete capire, noi siamo gli eroi e possiamo fare ciò che più ci aggrada. Possiamo farmarci le risorse, craftare, seguire la storia. Beh, poi tra l'altro dovete sapere che Morrowind, Oblivion e Skyrim mi hanno fatto provare una sorta di timore che in nessun altro gioco mi è mai capitato. La paura di andare troppo avanti con le main quest senza accorgermene e finire il gioco. Pensate voi quanto mi piace tutto il contorno. Quello che posso garantirvi è che Starfield vi darà ben altro a cui pensare oltre la main quest. Esplorate semplicemente, parlate con la gente, godetevi tutti gli effetti sonori, gli scorci che vedete, la possibilità di vedere la nostra luna a terra c'è sopra, vedere cosa l'uomo ha realizzato tra tre secoli e mezzo su Marte. Viaggiate tra un sistema e l'altro e poi magari se una sera tornate a casa stanchi dal lavoro e non volete impegnarvi andate semplicemente nella vostra casa in gioco e arredatela. Oppure ordinate le risorse in modo da pianificarvi il crafting che magari farete la sera dopo. Siamo sempre lì a contare il difetto quando ci viene messo a disposizione un mondo enorme con delle sorprese nascoste negli angoli che meno guardiamo. Fermatevi e ascoltate i suoni, le armi ricreate in 3D, trovate magari la vostra preferita e modificatevela, rendetevela più consona a quello che è il vostro modo di giocare. Poi ricominciate l'avventura, ci sono le scelte morali, tornate poi a rilassarvi e quando avete fissato i vostri obiettivi, chi se ne frega se ci si sposta con i caricamenti rapidi e non camminando e decollando manualmente. Alla fine è una scorciatura. Siamo qui per divertirci, non siamo qui per simulare una vita reale, anche perché tutti i giochi hardcore che simulano al 100% il peso dell'orologio che indossate e il passo fatto alla velocità reale sono i giochi più di nicchia che non gioca nessuno. Spesso bisogna solo camminare e fare ciò che lo sviluppatore ha deciso in tanti giochi, ma qua no. Non tutti i giochi vi permettono di avere questa libertà e gestirvi questa propria vita virtuale. Se il tema di Starfield, il tema del gioco, la sua libertà, vi piacciono, vi consiglio di non guardare streaming dove gli streamer si spolpano il gioco. Magari guardatevi qualche piccola guida, ma poi esploratevelo da soli. Spesso della gente mi chiede cosa ne pensi, ho letto che, ho sentito che. Regatevene di tutto. Giocatelo come viene. Di cose da fare ce ne sono, ci sono i panorami spettacolari. Ci sono ambienti ricchi di dettaglio. Ogni luogo potrebbe o non potrebbe avere una storia, anche dovuta, anche solo, raccontata da degli oggetti lasciati a terra, a parte i banalissimi documenti che, quello sì, vi raccontano la storia. Il gioco segue i nostri ritmi, quindi non dobbiamo farci influenzare, continuare a cercare com'è, com'è, com'è. Provate semplicemente, per una volta, a divertirvi. Grazie. 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 Grazie.